Non c'è pace per i dipendenti della ditta Scoppio che ormai da diversi mesi devono fare i conti con alcuni problemi, dai gravi ritardi nel pagamento degli stipendi alla mancanza di servizi igienici nel deposito dei mezzi. La ditta con sede centrale a Gioia del Colle nel Barese gestisce in appalto il servizio di scuolabus nei comuni di Pesaro e Fano rispettivamente dal 2021 e 2022. Attualmente i lavoratori della ditta Scoppio con appalto di Pesaro e di Fano hanno percepito poche ore fa, c'è arrivata comunicazione da parte dell'azienda dell'avvenuto bonifico relativo alla mensilità di giugno ma ancora manca il TFR del trattamento e fine rapporto di queste lavoratrici e di questi lavoratori. È una problematica a sega, importante, molto importante? Purtroppo sì perché come sapete sono lavoratori part time, papà e mamme di famiglia che hanno le loro necessità, hanno mutui, hanno scadenze, hanno tante cose come tutti noi e non riescono a farle in fronte perché oltre che da giugno non prendono stipendio sono in disoccupazione e quindi fino a che non riprendono il lavoro o arriva la disoccupazione che probabilmente arriverà a settembre non hanno liquidità per far fronte alle esigenze familiari. Il servizio scuolabus per settembre è a rischio? È a rischio perché? Perché i lavoratori si stanno guardando intorno, perché se un lavoro lo svolgi ma non è retribuito nei tempi certi, uno se trova un'occasione migliore, un posto di lavoro occasione, lo apprende al volo, non aspetta e quindi il rischio c'è che a settembre all'attivazione dei servizi qualcuno faccia altre scelte. In questi casi è necessario l'intervento del comune? Noi chiediamo fortemente l'intervento di tutti i comuni, Pesaro, Fano, per stabilire una giornata precisa per il pagamento e quella deve essere, perché se il lavoratore ha la certezza del pagamento non chiede altro, avere la certezza che quando arriva quel giorno stabilito del mese ha lo stipendio, nient'altro. Oltre ai ritardi nei pagamenti degli stipendi, da sempre gli impiegati della ditta Scoppio non possono usufruire dei servizi igienici perché non presenti nelle vicinanze del deposito. È stato segnalato dai lavoratrici e dai lavoratori la difficoltà di non avere servizi igienici e acqua potabile né depositi né di Pesaro né di Fano e questo crea grave difficoltà specialmente a chi deve prendere il servizio la mattina d'inverno col freddo dalla necessità di andare in bagno deve necessariamente andare dietro un mezzo o via di fortuna. Quindi questo è intollerabile, quindi anche qui i comuni di Pesaro e Fano devono andare a verificare se i depositi sono conformi per quanto richiesto. È un problema già segnalato? L'abbiamo già segnalato a marzo questo problema e ad oggi ancora persiste questa difficoltà, quindi fino a giugno c'era questa difficoltà dei bagni e dell'acqua potabile.